Ben trovati al NOTES di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Grazie a tutti. Il programma passeggiate guidate tra i castagneti. Al 17.30 invece appuntamento con spettacoli di mistero, leggende e misteri del bosco, un'escursione con accompagnamento musicale. Sabato 2 novembre alle 10 sarà invece possibile partecipare alla passeggiata tra gli scultori, un viaggio tra arte e natura, mentre nel pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi con il laboratorio storie di fili e intrecci. Domenica 3 novembre è in programma la passeggiata geologica alle 10. Alle 14 presso Borgo Colmellere si terrà invece il concerto Note di Musica con il pianista fuori posto. Alle 14.30 in programma uno spettacolo lungo la fantastica via con la Gnuco Alpenzniapa Band. Ogni sabato alle 14.00 e alle 16.00 e la domenica alle 10.00 è inoltre possibile partecipare alle passeggiate nel bosco con raccolta di marroni. Scoprite i programmi degli eventi sul sito www.deliziedautunno.tv. Delizie d'autunno è un progetto realizzato con il contributo della Regione del Veneto di cui alla legge regionale 34-2014. Il comune di Montebelluna e il Memoriale Veneto della Grande Guerra presentano la reopening della mostra Spirito e Corpo, Fede e Alimentazione in Guerra. Il percorso espositivo, interattivo e multisensoriale rappresenta un'occasione per riflettere su come fede e alimentazione raccontino la storia dell'umanità da molteplici punti di vista. Propaganda, superstizione e spiritualità, fame e logistica del cibo. Temi che possono costituire chiavi di lettura importanti per interpretare i conflitti di ogni tempo, anche quelli del nostro contemporaneo. In dialogo con l'allestimento permanente sono esposti numerosi reperti provenienti da collezioni private e prestigiosi musei, documenti d'archivio e immagini storiche. La mostra è visitabile fino al 31 agosto 2025 presso il Memoriale Veneto della Grande Guerra negli orari di apertura della sede. E fino al 3 novembre a Longarone Fiere c'è Arredamont, la 46esima mostra nazionale dell'arredare in montagna. L'appuntamento più importante e atteso per questo particolare settore. Quasi 200 aziende espositrici provenienti da 12 regioni italiane e da 8 paesi esteri che spaziano dall'arredo al design, dalle stufe, caminetti, tutto quello che ruota attorno alla casa. Protagonisti gli artigiani che lavorano con maestria e passione materie prime di qualità a partire dal legno. Una grande vetrina per l'artigianato strategico per il territorio bellunese. Non solo arredamento e arte con l'esposizione Arte in Fiera, anche una mostra eccezionale di attrezzatura degli sport invernali dal Novecento sino ad oggi con pezzi unici firmati dai grandi atleti. Nel 2005 vennero scoperti due nuovi satelliti di Plutone. Venne resa pubblica dalla NASA la notizia della scoperta di Idra e Notte. Il loro diametro è di 32 e 55 chilometri e ruotano con un'orbita di tre giorni attorno a Plutone, il più piccolo e il più lontano dal nostro sistema solare. In totale si conoscono cinque satelliti all'interno del sistema di Plutone. I loro nomi sono ispirati a divinità o figure mitologiche. Le due più piccole lune furono scoperte con un telescopio insieme al suo team di astronauti. Alcuni astronomi avanzarono il sospetto però che Plutone potesse avere anche un sistema di anelli attorno a sé. Non è libero chi è schiavo del proprio corpo. Lucio Seneca Dal Notice di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie per l'attenzione.